Una cartica che io guardo a dove te scrivi Che ti sogno e che ti chiedo tanto Che si arrabbosta in mio corazon Latendo por ti, latendo por ti Video haul Primark Non sono tantissime cose perché vi ho appena girato il video haul Back to school E alcune cose erano per il back to school Comunque vi faccio vedere quello che ho acquistato Non è molto ma c'è qualcosa Come accessori Ho preso questa borraccia L'ho presa perché Più che altro per bere in casa Sono sincera per portarmi l'acqua Allora io a breve mi trasferirò Dai miei suoceri, andrò a vivere con i miei suoceri In casa dei miei suoceri, purtroppo dobbiamo lasciarla a casa Perché la proprietaria ha bisogno della casa E siccome Non ci conviene andare a prendere un'altra casa in affitto Perché Lantino in realtà ce l'ha la casa Però non voglio stare qua a parlarne Si spera che sarà per un breve periodo Vivremo con i suoceri E allora siccome io farò giù la mia postazione unghie Dove lavorerò tutto Ho voluto prendermi questa borraccia Per portarla giù e bere Insomma Non fare sempre su e giù Ecco E niente Questa borraccia rosa L'ho pagata 2 euro forse Non mi ricordo Quando trovo lo scontrino Ve lo dico Comunque questo Poi ho preso Poi ho preso Un paio Una confezione di 5 paia di calzini Per Valentino A 2,50 euro Semplicissimi calzini neri Questa è la taglia che va fino alla 46 Esatto Poi ho preso 4 pantaloni di questi Ragazze Che sono praticamente Dei fusù Semplici fusù neri Che ho pagato Sì ho preso la XL Perché vi spiego Io Oscillo tra la L e la XL Però Questi siccome li ho presi per lavorare E io ho un problema Nel senso che se un pantalone Mi stringe un pochino Mi fanno male i reni Non me lo chiedete perché Ma mi fanno male proprio Ne sento dolore al tazzo di reni Quindi li devo prendere Che mi stanno non larghi Ma comodi Non stanno a stringere E quindi ho preso questi Che sono semplici fusù neri Lunghi E ho preso appunto la XL E dovrebbero andarmi Perché è bella morbida L'elastico Quindi dovrebbero starmi Proprio comodi comodi E E li ho pagati Pensate solo 3,50 euro Ne ho presi ben 4 ragazze Perché dovevo fare scorta Questo è il secondo Terzo e quarto Mi servivano proprio per lavorare E li ho pagati 3,50 euro Sono proprio fusù Non sono pantacollant Fuso Poi ho preso Questa cannottiera Bella lunga Nera Ok Che ho pagato 4 Oddio 4 euro Ho preso una L Una di quelle cannottiere Belle lunghe Che uso sempre molto Per lavorare Sotto la maietta bianca Così mi copre il sedere Mi copre la schiena Non so Che prendo spifferi Non so se mi sono spiegata Ok Poi ho preso Due confezioni di calge Ho preso Anch'io Quelle nere Queste della 39 Alla 42 E poi ho voluto Prendere queste qua Colorate Davvero carine Queste colorate Venivano 3,50 euro 5 paia Queste nere Invece 3 euro 3 euro 5 paia Poi Ho un dolore Ereni Che non avete capito Della serie Ho preso Questa confezione Di mutande Ho preso La sempre XL La Come si dice Modello Mini Mini si chiama Che sono gli slip Normali E Purtroppo Lì non puoi vederli Quindi Speriamo vanno bene Vediamo come Sì La madonna Voglio Queste non stringono Di certo Sono semplici slip Che Ragazzi Ho preso Questi Per quando Ho le mie cose Così sono comoda E quindi Sono 5 slip A 4,50 euro Sono molto belli Mi sa che poi Quando tornerò So che I mini Mi piacciono Ne prenderò altri E che non sapevo Se mi andavano Bene o no Allora Quindi ho preso Solo una confezione Arriviamo Ai pigiami Ragazzi Nota dolente Nel senso che Non riguarda questo Adesso vi faccio vedere questo Questo l'ho pagato 12 euro Ho preso sempre la XL Ho maggior ragione Che un pigiama Però comunque dipende O L Per alcune Infatti altri pigiami Sono L Dipende ragazzi Io voglio stare comoda Quindi Non me ne frega niente Che sia XL Ho preso Questo pigiama In Non so spiegarvi Tipo ciniglia No è pile Penso pile Rosa Con i gattini Guardate che bello È bellissimo È molto morbidoso Sembra molto caldoso L'ho preso Questo qua Maniche lunghe Il pantalone Avevo un po' di dubbio Il pantalone Mi sa che è largo Un pochino Forse sì Però vediamo Sempre meglio Largo Che stretto Ha il pantalone L'elastico Qua in vita E ha anche L'elastico Qua sotto Per me È importante Per chi odio Forentemente Questi hanno anche Gli elastici Ai polsi Quando si alzano I pigiami Nel letto Non me lo sopporto Ragazzi Comunque ho preso questo Allora Principalmente Sono andata Per i pigiami Devo fare scorta Di pigiami Perché Io ragazzi Ve lo dico Chiaro e tondo Qua a casa mia Io dormo in canottina In mutande Però ovviamente Dovendo andare a vivere Con i suoceri I due pigiami Ce li ho ancora Dovendo andare a vivere Con i suoceri Magari ti alzi Per andare in bagno Ti becchi Tu sono giù davanti E tu sei in mutande No Quindi dovevo fare scorta Di pigiami Adesso arriva Questa curiosità Perché io sono andata In due volte Questo qua rosa L'ho preso la seconda volta La prima volta Avevo preso questi due pigiami Cos'è successo? Che quando la ragazza L'ha tirati fuori Mi fai Mi strafila Ma porca vacca Eh Che barba Oggi Mami Li ha tirati su così E ha pensato Fosse un pigiama solo E me l'ha battuto Come un pigiama solo Vi faccio vedere Perché se non ci credete Perché Allora I pigiami Questi qua Venivano 13 Aspettate un attimo 13 Io ero convinto 12 Sì 13 euro L'uno Venivano Guardate L'altro Che ho preso 12 Guardate A 13 euro C'è solo una cosa Mi ha battuto uno solo Io me ne sono accorta Subito Sono cattiva Ma sono Sono zitta Non ero sicura Poi quando ho visto il prezzo Ho mandato Lo scontrino Ho detto Sì è giusto Allora A 13 euro Ho preso Questo pigiama di Dumbo Anche questo pigiama Del Lille Vagabondo Due al prezzo di uno Allora Questi sono L Perché non c'era La taglia più grande Ora io Credo Mi vada bene Perché li ho visti Allora Abbiamo Oh mio dio Tutto legato Sì Aspettate Questi sono a maniche corte Però Però hanno il pantalone lungo Sì a voglia Allora Abbiamo Questa È la maglietta Con Dumbo Con scritto Walt Disney penso Dumbo Ah Walt Disney Dumbo Ok Fatti così Rosa Quello psellino Sì la maglietta è grande E questo è il pantalone Sì Va benissimo Ragazzi Secondo me potremmo prendere la L Anche dell'altro Ma va bene Comunque questo qui Con tutti i dombini Col pantalone blu E anche lui Ha l'elastico Alla fine del pantalone Sono felicissima È bellissimo E poi l'altro Invece di Lily Il vagabondo Pagato sempre 13 euro Tra virgolette Perché io non l'ho pagato Speriamo Speriamo che nessuno Di Primark Che vede questo video Allora Praticamente La maglietta Verde acqua Una carta Ed è fatta così Mamma mia Così Sì Sempre bella Grazie Non belte niente Ci sono Le logondo Che si danno Fanno Una lesina Con questi cuoricini oro E il pantalone È semplice Beige Sta cazzo Di carta Ragazzi Semplice Beige Con i cuoricini E anche lui A voi È morbidissimo Così Sapete cosa Mi dà fastidio Che poi sono Larghissimi Di qua Magari Capite E anche lui Le lastichino E ragazze Sono stra belli Sono stra felice Sono stra contenta Perché al prezzo Di due Io ho preso Tre pigiami E questo qua L'ho sentata a prenderlo Perché in realtà Ero indecisa Se prendere l'inizio Però non volevo Spendere troppi soldi Quando ho visto Che non mi ha fatto pagare Quello L'ho sentata a prenderlo Questo Non è Di nessuna marca In particolare Però Era un po' più caldo E ne volevo Un attimino Un po' più caldo Quindi niente Allora Chiriamo fuori Le mutande Così Vado a lavare tutto E sta roba La butto La plastica E devo tenermi Questo però Adesso magari Vi faccio una foto Così mi ricordo Il modello Ok Così Qua rimane Ah E tra l'altro Ho preso la busta Quella che Di plastica Di Primark Perché Non volevo Non so se anche a voi capita Ma a me Mi rimangono sempre I mannici in mano Di Primark E niente ragazzi Questo era tutto Il mio video All Spero che vi sia piaciuto Un bacione Al prossimo video Ciao ragazze Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti